Il Movimento Open Politiche Aperte di Caltanissetta si appresta a presentare il piano programmatico denominato Caltanissetta Europea che si terrà domenica 3 marzo a partire dalle 10.30 in un bar paninoteca di Corso Umberto. Saranno presenti la responsabile regionale di Volt Sicilia, Erika Puntillo, e il referente locale di Più Europa, Giancarlo Ciulla. Concluderà l'incontro Rocco Gumina, leader di Open Politiche Aperte e candidato sindaco alle amministrative di aprile. Open Politiche Aperte è un movimento nato lo scorso 8 dicembre per contribuire, si legge nella nota, alla costruzione di una società migliore. La nostra visione di Caltanissetta Europea, si legge ancora, punta a recuperare quanto di buono è stato fatto e a intervenire su ciò che sinora non è stato all'altezza dello standard europeo.